Prima del coronavirus davo un colpo di tosse per coprire una scorreggia. Adesso faccio una scorreggia per coprire un colpo di tosse. In questo periodo di coronavirus il Messico ha chiesto a Trump di sbrigarsi a costruire il muro. La birra Corona ha cambiato nome per evitare di essere associata al virus. Ora si chiama Ebola Extra. Il mio corpo ha assorbito tanto sapone disinfettante che quando faccio la pipì pulisco il water. Ricordiamoci sempre quello che disse Victor Borg. La risata è la distanza più breve tra due persone. Siate sempre allegri come lo sono io. Farà solo che bene. La risata è la distanza più breve.